Buonasera Londra, siccome tutta la community ne sta parlando, proviamo anche discutendo, proviamo a dire anche noi la nostra sul natural bodybuilding, anche perché poi è uscito il nostro libro Project Bodybuilding, quindi ci facciamo anche un po' di pubblicità. Quindi proviamo a vedere se esiste, se è una chimera, è un prenderci in giro e soprattutto uno natural, secondo noi, che cosa dovrebbe fare? Molto spesso, scherzando con i miei collaboratori che si occupano di bodybuilding, visto che io sono uno spettatore esterno e da divulgatore, vedete voi se intrattenitore, scientifico o quant'altro, vedo dall'esterno che cosa succede, a volte ridiamo e scherziamo e diciamo è sempre facile essere natural col culo degli altri. Perché oggettivamente questo natural bodybuilding esiste? Assolutamente sì, però i controlli sono quello che sono, non riescono a prendere tutti i farmaci, tanti atleti magari si erano dopati anni prima e poi si ripresentano in una nuova veste natural, quindi ci sono sempre sempre dei paletti, però oggettivamente ci sono tanti ragazzi che ci credono, ci provano, magari non si piazzano sul podio? Chi se ne frega! Alla fine gareggiano per se stessi, ecco, secondo me uno oggi con i mezzi che abbiamo a disposizione, se vuole delle soddisfazioni nel natural bodybuilding, le deve avere verso se stesso, non deve aspettarsi adesso vado e faccio chissà che cosa, poi se c'ha la genetica un buon allenatore magari ci arriva anche, assolutamente, però ricordiamoci sempre che è facile essere natural col culo degli altri. Detto questo, secondo me, guardandolo dall'esterno, a livello scientifico, il bodybuilding ha fatto dei grossi passi avanti negli ultimi anni, non è vero che, oh, si sapeva già prima, c'era già tutto? Assolutamente no, perché se andiamo a vedere nei natural, e su questo io ci metto la mano come si allenano, non c'è più quell'attenzione che c'era prima nello spaccare il muscolo, nel ah, se non soffri non cresci, eccetera eccetera. C'è tanta gente da natural che fa così e fa bene, perché ha un'ottima autoregolazione, riesce a portarsi al limite, ma anche quando l'organismo non riesce in realtà poi a spingere, ha un freno e quindi non fa mai, tra virgolette, il botto. Però non sono in tantissimi, anche se poi ci sono. E poi c'è un altro gruppo di atleti oppure di persone amatoriali che invece cerca di avere una visione più fisiologica di quello che è l'ipertrofia muscolare, perché poi alla fine la differenza tra una vecchia concezione del bodybuilding, dove devi sentire il muscolo per farlo crescere, dove c'erano delle cose che avevano poco a che vedere con la fisiologia del nostro corpo, oggi quello che vediamo è che il nuovo natural bodybuilding in realtà rientra molto nella periodizzazione sportiva che avviene negli altri sport. Cioè nel senso si è iniziato a vedere che è vero che la performance è l'aumento del muscolo. Ma l'aumento del muscolo avviene indirettamente per l'aumento di altri parametri. Cioè non basta andare lì a caso e sollevare un peso, perché sicuramente ottieni di più che startene a casa. E sicuramente se hai un'ottima genetica ti porti a casa sempre i tuoi bei risultati. Ma è anche vero che se sei nella media, programmare è sempre meglio che non programmare. E d'altronde ci avevano provato anche prima. Il problema è che in tutti i tempi passati ogni volta che si inventava qualcosa bisognava brevettarla. Bisognava metterci il proprio sigillo, questo è il mio sistema, questo è il mio metodo, questo... Cioè ecco, era più un'operazione poi commerciale che una reale apertura a un'innovazione che come tutte le cose viene confrontata e viene sistemata. Quindi guai a dire all'inventore di un metodo che magari a fare così può andare bene, ma se fai cosa va ancora meglio. Ecco, invece devo dire che oggi, soprattutto oltreoceano, c'è una gran voglia di condivisione senza per forza mettere il proprio marchio, senza per forza dire questo l'ho inventato io. Ecco, ognuno prova, mette le sue conoscenze a disposizione, un po' come facciamo noi, e le persone testano. E sul testare, secondo me, è stato il grosso salto che ha fatto il natural bodybuilding in America. Perché almeno se incominciamo a prendere due misure, non è che stiamo facendo chissà che cosa, però sia quanto fai con gli esercizi, con otto ripetizioni, quanto fai di panca? Ok, questo otto ripetizioni di panca deve crescere nel tempo, possono essere le trazioni, possono essere i manubri, può essere un macchinario, ma il carico nel tempo deve crescere? Ok. La tua capacità di sopportare il lavoro e i recuperi deve crescere nel tempo? Se su questi siamo tutti d'accordo, dobbiamo semplicemente trovare la miglior strada per arrivare prima al risultato. Perché se tu ti alleni anche a caso, nel tempo un po' di forza la metti, di capacità di sopportare il volume, di aumentare la densità, perché l'allenamento qualche risposta la dà sempre. Fare le cose con logica è sempre meglio che fare le cose a caso. Ecco, questa secondo me è la grossa differenza che ha mostrato che la multifrequenza dava nei natural più risultati e non lo dice un caso, perché ci sarà sempre la persona che in monofrequenza cresce di più in multifrequenza. Però se andiamo a vedere statisticamente le persone, la multifrequenza dà di più. Anche perché la fisiologia, e finché uno non lo dimostra è quella, dice che la sintesi proteica perdura dopo l'allenamento, a prescindere dall'allenamento, 48-72 ore. Dopo 72 ore possiamo aver fatto l'allenamento che vogliamo, ma la sintesi proteica aumentata grazie all'allenamento non c'è più. Quindi allenarsi in multifrequenza è sicuramente più vantaggioso. Il cedimento è un altro dei grandi miti, che se non arrivi a cedimento non cresci. Ma non è vero. Se arrivi a cedimento cresci di sicuro, però il cedimento va a incidere sul recupero e quindi è una coperta corta. Ma dall'altra parte tantissimi atleti che abbiamo portato anche quest'anno non arrivano a cedimento, perché migliorano in tutti i parametri senza arrivare a cedimento. Anche quella è una strada. Quindi, come dire, si sono aperte sicuramente delle porte e si sono iniziati a dare gli strumenti che abbiamo messo in Project Bodybuilding, mi faccio un po' di pubblicità, si sono iniziati a dare degli strumenti alle persone per avere i mezzi, per potersi testare, perché se no uno dice come faccio? Ma se faccio lo stripping? Ma se passo dalla panca l'accesso e come cambiano i parametri? Ecco. Allora, nella semplicità si cercano di migliorare le cose. E questo. Invece molto spesso l'antro del doping è devi soffrire, ti devi spaccare, no? Contano determinati alimenti, conta il timing, contano tutte le cose ininfluenti. Perché poi andiamo a vedere i risultati sul campo. Noi abbiamo tantissime persone che si semplificano la vita, si fanno poche seghe mentali e poi i risultati li portano a casa lo stesso. Quindi, se si facevano le seghe mentali, ok, avrebbero avuto lo stesso risultato perché abbiamo testato sia in un modo sia nell'altro. Visto che più o meno tutte le persone che si allenano da un po' in Italia hanno ancora l'imprinting di un bodybuilding che di Natural ha ben poco. Ecco, quindi secondo me la grossa distinzione ed è il motivo per cui in tanti ci attaccano. Che non è vero che Natural e Doppede si allenano nello stesso modo, fanno le stesse cose. Non è assolutamente vero perché durante un periodo di definizione il testosterone va giù. E' questo il problema nei Natural, che quando stai a dieta gli ormoni anabolici calano. Cioè è inutile che dici ah mangio grassi, mangio a quest'ora per avere... non c'è. Cioè nel senso questo è stato dimostrato. Se assumi i farmaci, anche in ipocalorica i tuoi livelli rimangono stabili perché li dai con i farmaci. Quindi parliamo proprio di dei soggetti differenti. E oggi secondo me il pericolo è trovare delle persone che ti dicono guarda fai così, sono Natural, fai cosà, che magari è una loro soggettività e ci sta assolutamente, quindi lo fanno in buona fede. Oppure più facilmente in realtà hanno qualcosa da vendere e quindi cercano di portare l'acqua al proprio mulino col testimonial. Da quanti anni la pubblicità degli integratori prendono persone dopate per venderti l'integratore? Mi fa molto ridere il meme che dice tu mi compri l'integratore e coi tuoi soldi mi compro gli steroidi. Perché è questa la realtà. Cioè quelle persone lì, gli integratori, sì, sono caramelle, non c'entrano niente. Ecco quello grosso che ti dice guarda sono grosso, fai come me. No, io non voglio fare come te, voglio vedere quante persone Natural hai fatto diventare come te. Perché se sei te l'unico a essere grosso o se sento puzza di doping in tutti i prima e dopo, eh, insomma, c'è qualcosa che non va se io voglio rimanere Natural. Insomma, questa era la nostra posizione e secondo me Project Bodybuilding, poi lo giudicherà al mercato, sarà veramente uno tsunami. Sarà veramente qualcosa di interessante. Io volevo mostrarvelo, ma non ce l'ho. Ho Project Calisthenics che non c'entra niente, ma il libro sarà più o meno come Project Calisthenics. Quindi ha lo stesso carattere e ha più o meno tutta questa mole di informazioni. Sono 500 pagine, quasi 500 pagine, carattere 10, con tutto quello che nel pratico noi abbiamo visto in questi ultimi sei anni funzionare. Se vi può interessare, io mi sento caldamente di consigliarvelo, soprattutto poi se guardate il video verso Natale, e mi direte voi, Andrea mi hai dato una sola, non ti seguo più, o più facilmente, visto che sono sicuro che è un ottimo prodotto, ci ringrazierete e acquisterete nel tempo ancora quello che abbiamo da offrirvi. Grazie a tutti e viva il vero Natural Bodybuilding. Grazie a tutti. Grazie a tutti.